Sono dell'ispettolato del lavoro, come si è messi qua? Quella suona lì non è un postretto? Scarpetti infortunistiche qui, mi sa che sono una chimera caschetto, protezione per le mani Ascolta, quest'assa tiene, non vedi che è tutta piegata Andiamo con quello sfrattacino Il ponteggio l'avete preso alla Veneta? Contributi, presidenza sociale, tutto posto Quattro 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 Grazie a tutti. 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 E lei è responsabile della sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.